Ciao sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Dragon Age of Veergar, stiamo cercando sempre di aiutare Herding, ma sempre la questione di fare due pezioni come una favola, ossia riuscire sempre ad arrivare ad Harlatan e trovare questo Eluvian che poi alla fine fa parte anche di una missione principale per ciò che riguarda la storia. Per cui speriamo di non fare chiavolate, in realtà abbiamo recuperato anche un po' di cose, non sarebbe male riuscirle poi a sblocchiare in un secondo momento. Ah, questa si deve attivare. Magari più in là riusciremo a capire tutto Norid e ritornare al Faram. Ok Mi raccomando L'ha blocchiato e quindi bisogna Questa è un'altra mossa che pure dovremmo cercare di fare. Voi avete visto quanto danno riusciamo a fare. Cambia qualcosa sicuramente perché sento un rumore, poi magari abbiamo di capire che cambia effettivamente, all'atto pratico. Esci niente, ok allora questo Ah, arrivo eh Pensavo di essere riuscito A beccarlo Ah, io ho beccato Adesso siamo almeno un po' più competitivi. La non è una... eh ma la secondo me bisognerà attivare qualcosa. Ah, se ne scende Ah, che è qui si Ma che ne ho capito che alla fine non ci conviene? Eh, no Ok, non ce la faccio va Non siamo sufficientemente forti. Ci riusciamo a spararlo ma noi riusciamo a... Fagli tutto il danno Grazie per le cure. Allora qua pure abbiamo attivato... Ah, vedi c'è attivata pure la scaletta Allora, aspetta un attimo. Sì sì, un momento Ovviamente con la questione di cercare di recuperare più robe possibili Poi alla fine poi ce ne andiamo in altre parti Magari Eh, mo per esempio dove stiamo? No va a buiare, qua ci allontaniamo un po' troppo, quindi lasciamo stare Ah, herding potrebbe avere, sì Ok E la mettiamola Imagina me così Entrano a finire, eh Uff Quale? E poi e poi non ce lo troviamo più, questa c'è andata avuto il colpo c'è ancora un altro qua ci sono parecchi qua, allora era una stanza, è solo una stanza, meno male quindi non abbiamo ampliato niente di particolare per chiaro, stanza no, non è una stanza, è una strada che c'è qualcuno che ci vuole ammazzare, ve lo voglio dire mi hanno mirato e quindi e ci stiamo un pochettino troppo avventurando troppo avventurando ci stiamo capisco capisco cazzo ci stiamo troppo avventurando allora alla fine va a finire che facciamo un'altra missione vai altare, perfetto, abbiamo anche sblocchiato quest'altro con cento e siamo molto più forti quindi io direi di ritornare dove stavamo prima abito nella mia bellara, grande bellara, glielo mettiamo pure quindi siamo tutti quanti più contenti ehm facciamo al massimo, allora vorrei ritornare dove stavamo prima guardiamo ah qua c'è qualcosa da posizionare però ok, qua non penso di avere niente, infatti questa è una zona strana ah vedi via virtuose, l'abbiamo completata dove vuole fare l'esplorazione sblocchiato foresta, siamo arrivati, disponibili come dove voglio va bene, sì per cui abbiamo fatto bene secondo me perché via virtuose quindi dovrebbe essere stato completato a questo punto e infatti sì infatti non ci sta più vabbè, ok, quindi l'ho fatto bene di là non c'è niente, vero? non si è sblocchiato niente, no perché poi là ci serve la pietra quell'altro è un altro cancello andiamo di qua ma siamo già al massimo quindi non ci facciamo niente allora là ok di qua ma vado questa è stata di prima? no ma non ti arampi? non sai che abbiamo sbagliato a strada, eh? sì la cazzo non mi piace vi dico la verità a un livello di ambientazione non mi dice particolarmente niente vabbè allora entriamo e raggiungiamo questa nuova zona il cold hunting presso il logo indicato ah, questo non l'ho posizionato qua ah, non l'avevamo già posizionato perché questo mi pare che forse non si era aperto prima e per forza io non posso aiutare ma finire quando uso le mie skill ti pensi? ah, questa volta è sicuramente il demon non è personale se ti guardi a me in battaglia ti guardi a te guardi a te guardi a te i demon gli ultralis forse secondo me è forse uno dei pochi che si salva anche a livello di lessico che è un po' più qua ci siamo già stati sì vediamo di farci fuori subito a questa ok ok non è andato è andato è andato è andato allora la ci sta un'altra missione tra parentesi eh se incontriamo prima lei nooo ci perdiamo un pochettino secondo me una stessa situazione aiuta ending a fare pratica con la sua capacità incontra ending vabbò spero che sia una cacata eh perché non la vedo una missione particolarmente generosa eh dalla luce ma non è che ci facciamo 50 pasti eh vediamo se ne vale la pena il suo fatto di averti fatto migliorare mmm esatto sì è troppo è un pochettino sì ma provi provi ah sei il peggio il peggio il peggio una scuola mental una sorta di trigger Sì, potrebbe pensare di come le nostre capacità di protegere noi. Instinct. Protection. Siedle myself. Siedle others. Se ho avuto questa magia prima, potrebbe... Potrebbe protegere i persone che importa. Sì. Sì. Dipende da chi vuoi... Cioè, se è solo una questione di osas. Vediamo, dai. Vado gli avanti. Dopo ritorniamo un attimo al faro, così vediamo anche di migliorare qualche altra arma. Quindi presumo anche che secondo me alcune missioni si devono per forza fare, cioè... Per... 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 Per determinate abilità. Qua penso... Ah, ok. Che tipo ho visto che c'erano delle zone irraggiungibili. Si fa buono, ma che facciamo due chilometri così? Dai. Abbiamo capito. Questa è anche spostare rocce diverse. No, di qua non ci arriva. Questa che problema c'hai? Io penso a che se questa non ci arrampichiamo. Si, c'è qualcuno, ma sta qua sopra. Ce la facciamo andare dall'acqua, ma non credi che ce la faccio, eh? Invece si, ce la facciamo. Eh no. Non c'è niente, c'è un forziere qua. Equipaggiamento e situazione, tutto per Harding, 69,50, è uguale, attenuazione, qua c'è la frantunazione, va beh. La metto perché l'abbiamo appena trovata. Si, ho capito. Non lo vedo. Ma ha riso. Non è che ci sta prendendo, eh? Vorrei che magari andiamo sopra. Ed è un troppo lune tremendo. Ok. Ah, sta là. Eh no. Sta proprio di... Male, male. Ma... Oh. Ma sì. Harding? Do you hear that? Hear what? Sister, I feel you Touched by the ancients As I once Find me Look to those closest to the stone And find me Harding What's wrong? What are you hearing? I'm I'm sorry Let's just get our friend to safety And then we'll talk Ok Do you want to say Do you want to say the force ending? Pod be Migliorate come personaggio Incarico con stazione sana Quindi abbiamo aiutato E abbiamo anche migliorato questa situazione Vabbè Segeti e la mettiamo ok livello 16 assolutamente buono punti abilità poi dopo ce li guardiamo c'è fatto di tornare un'altra volta qui apre il diaro io ritornerei un attimo al faro vuoi vedere se possiamo potenziare qualcosa anche se qua c'è qualcosa una missione da rispondere facciamo così vediamo qua che missione c'è poi dobbiamo anche la possibilità di scegliere che cosa fare anche se queste missioni qua mi fanno cagare non vogliono morire stoppare le pensi, stoppare le pezzi scegliere, 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 scegliere facciamo scegliere ho vedo i spiriti scegliere con la buona emozioni inizialmente, scegliere questo spirito scegliere l'agono delish che ci sono morti in la foresta? scegliere, scegliere scegliere tutto il verish tutto il verish si muove si muove si muove si muove il relic non lo toccano non lo toccano non lo toccano non lo toccano che sono questi delish vediamo un pochettino se siamo in una missione tranquilla perché sinceramente ci hanno fatto fare una alleviazione immensa provaci meglio il clano cinque oddio santo su cinque no vediamo c'è una cosa fattibile che c'è qua? eh lo so che mi stanno rompendo le palle avuto troppo troppo intensivo almeno l'abbiamo fatto fuori allora basta questo si apre due ma non credo il culo l'abbiamo trovato un anello visualizza no grande infatti bravi se decedete che l'abbiamo che Ok è andato È andato Allora l'ultimo sta qua L'ultimo sta qua Sta venendo oggi tutto Oddio questo uno Ecco Il destino del plano Non hai bisogno di sentirsi in questo modo Non c'è tanto Di la scurita Che è quieto Che è andato Non mi comprendo Si è abbezzato con un giusto semplice Che fa credere che i morti sono a resta Spirits di comune Molto empatente Ma non lo più più Secondo di Spite Proprio il destino Ok Che è successo a queste piante di merda? Qua ce la faccio Una cosa la facciamo pure noi C'è qualcosa di nuovo Potremmo è collegato a tutte le ruine C'è qualcosa? Ecco qua Daerath Sheral Lathalan Tu eri combattatori Scholarci Exploratori Amici La famiglia La famiglia Vi ricordiamoci come vivete E non come morisci Andi in pazza Resti bene Un momento di dolore Non è vero Grazie Grazie Vabbè Missioncino Bello il fatto di essere passato a livello 4 punti abilità per Lucas Apri il diario sicuramente Tornerei un attimo al faro Così ci potenziamo un po' su tutto secondo me Abbonatorio Oh 1952 Mera Quanto schifo quando fa così Visto che stiamo saliti di livello Volevo provare innanzitutto cercare di sconfiggere il tradimento di Felton che se non ricordo male era quello che avevamo beccato all'inizio e non ero riuscito a batterlo Comunque mi fiondo lì Se non vedete questa parte vuol dire che Sono morto Si E' questo Vediamo di provare a batterla Questo ne devo conservare Allora iniziamo già da subito con questo E questo E questo Allora questa mi piacciono E Come Bello avanti avanti devo cercare a tutti i costi di ah già adesso abbiamo anche l'abilità che se riesco a parare gliela restituisco raga perchè sta qua questo? perchè questa qua? ok questo qua e dai ok ok oltre 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 Ancora niente Guarda questo Madonna santa raga Non ci credo siamo io adesso E corri Occhio Vaga mi sta rompendo Non ci sta un'altra cosa per curarsi Niente Non è che le ho perse tutte quante No 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 E' incredibile vada Ok Corri 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 Mamma mia raga è anche di via Il tempo che stiamo perdendo per abbattere A questo E' quasi andato E' andato Madonna santa Abbiamo messo una vita per abbattere C'è molto lungo Via libera Però Però mamma mia Otteniamo l'essenza Il tempo che abbiamo perso Assolutamente Ci deve dare qualcosa di buono E ancora A volte hanno fatto un po' Allora Fardello Amuleto E' andato Salute Salute bassa Si attiva Il 10% E' più di velocità Quindi quando stiamo schiattando Siamo più veloci Curiosità Da qua Aspetta Questo è andato Questo è andato Cosa è andato Dove usciamo Di qua Inserisci l'essenza Non lo so Qua Ma vedete che da qua Usciamo Eh ho capito Dove stiamo Io ero Ero sceso di qua E non si poteva entrare Praticamente Ok ho capito Quindi inserisci l'essenza Corrotta nella porta Trova altre due fonti Vabbè si A me sinceramente Intericherebbe un'altra cosa Perché adesso Praticamente Abbiamo Qua Inserisci Ok Inserisci E inserisci Vabbè dai Sono altre missioni Che possiamo fare Però sinceramente Io volevo andare un po' avanti Con le missioni principali Ritorno un attimo al faro Magari ci possiamo potenziare Laboratorio Si dovrebbe poter Potenziare Ok Vediamo se possiamo potenziare Anche le armi Sì Sia da Bellara Sia da Neve E sia da Herding Che sono veramente Quella del compagno Sinceramente Io le andrei Ad attivare tutte Perché avete visto Che poi Man mano Si possono anche fare Stata facendo Magari decidiamo Che cosa fare Possiamo andare Quando vuoi Ah vedi Missione acquisita Echile del passato Dai il dono Wow Thank you Missione completata Ideale per Un'acrobata Del volo Abbiamo fatto un sacco Di cose Quindi è anche Normale Quindi penso L'abbiamo già fatta La missione Ho fatto tutto da sola Quindi Penso Penso di sì Che penso che se E' già attivata E no E' chi del passato No no Ci sta ancora Vabbè Fa niente E' qualcosa che avevo Già recuperato Poi ci sta Di qua No In questo momento Dove stai Dove abita Di qua Qua ci sta Neve invece Vediamo Neve Cosa desidera Non è Stimente Direi tragico Io dico che è un letto fine Meglio Il set del modo Missione principale che dobbiamo fare Quindi avete visto Già è una cosa buona Quindi potremmo fare due cose Contemporaneamente E poi a questo punto Andiamo un'altra volta Che ho segnato anche Già è vero Hai sentito la voce Quanto sospetta Già è vero Non dimentichiamo la probabilità Essere unico e bello Speriamo Ah ok bene Ci siamo risparmiati Ero convinto che la dovessimo accompagnare E invece niente Quindi l'aiuto Perfetto Allora Un momento Cerchiamo di capire una cosa fondamentale Visto che in pratica abbiamo Questo che dobbiamo andare al distritto del molo Allora vediamo neve Cosa ci dice Incontra neve al distritto Neve rivela un po' di sé durante un viaggio nel suo quartiere Distritto del molo Questa è la mia missioncina secondo me Quindi cercherò di essere un po' più rapido In questa parte delle missioni Giusto per conoscere un po' meglio i personaggi Secondo me Questa è la mia missione Questa è la mia missione E' la mia missione Ma è la mia Ma è la mia Non si può lasciare facilmente E' la mia missione E' la mia missione E' la mia missione Tutti i romanzi Spero me sarà una palla sta missione però In parte proverò a farvela vedere Questa è la mia missione Questa è la mia missione E' la mia missione i nostri passi hanno la stessa e tu stai perdendo persona? libera e respirando quando abbiamo finito quindi la maggior parte della prima di qua ah questo è ho un contatto che funziona in questa area non c'è la risetta di nuovo ok ci dovremo essere nef elec oh no se ti dicete grazie passare sorry hey se lo avessi conosci ti avessi detto vieni la prossima volta andiamo qui a fare conoscenza e se io fregassi te che cosa nef? non c'è un po' di più non ciò che interessi noi abbiamo chiesto un relic sul Doctown il suo compito è Venatori ma il suo spettatore è appena doveva il condito tu è un condito non abbiamo si tratta con cultisti la tua spettatore è rompito è stata fuori e il più è in Doctown il boss dice che è stato in control ma tra noi Non mi piace. E' worth keeping an eye on. If you hear anything. So will you. You know a member of the Thread crime syndicate. Personally. Don't tell me you're surprised. With you? I thought surprise was a given. Careful. Surprises here lead to trouble. Trouble's not always a bad thing. Alright. Come on. If we want more gossip we need more papers. Let's go to South Side. You. This fish won't need itself. I said next time you were here it was free. Sure thing Hal. Next time. Yeah, yeah. It's always something. Mmm. Joining Varric. Us. Do you really wish you'd said no? No. I just have a bad habit of picking jobs that go sideways. I think I'd learn. You said you'd take jobs worth taking. That's what I tell myself. This one was. The rest. We figure out as we go. Varric said this job would end with Solas. We'd stop a ritual then I'd walk away. But those gods escaped. Not much of a win. And if the world falls. The city goes too. It's not like I'll find work then. Is that why you said yes? To save Minrathus? People will tell you Minrathus is broken. And they're right. It's corrupt. Petty. Saving the world won't fix it. I take the small wins, Rook. Hal's serving fish another day. Getting past the next scrape alive. Sometimes you're lucky. Sometimes you get more. But the tables always turn. It's better if you know it's coming. We, uh, got in over our heads, didn't we? Same old story. The gods weren't a twist. I've seen worse. Then I'm glad you stuck around. Misery loves company. Oh, they're not. But they're not. 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 che volete che cacciate raga state tranquilli non vi preoccupare l'altro poi qua vicino c'è proprio la missione della storia quindi sinceramente direi di andarcelo anche subito a fare questa questa qua ci rendiamo già subito conto i am jowen glastrom first warden and supreme commander of weishaupt i received word of your team's request for gray warden assistance after an incursion of the blight at dametta's crossing how does a mourn watcher come to be involved with the blight in arlathan and not just any watcher but a controversial figure after what you pulled during that undead rebellion right talk to the people i saved they don't call my actions controversial some traditional watchers called my actions casual destruction of the dead but they weren't there very well then tell me how a navaran necromancer apologist unleashed the blight i think unleashed is a little strong it was an unfortunate side effect the blight was a side effect yes of stopping the dread wolf elven god of lies from destroying the veil we did stop him by the way you're welcome i did not come here to listen to fairy tales i am here because of the blight we haven't even gotten to the real fairy tale parts yet when we stopped solace two elven gods escaped from where he didn't prison them elgrenon and gillanane and they're not just evil they're blighted the point is that the gods are making the blight worse dametta's crossing was just the start that's why we need the gray wardens it is clear that whatever you did to unleash the blight has corrupted your already weak mind okay wait you will be taken to weishout and placed under heavy guard until the danger you caused by unleashing the blight passes are you kidding me i assure you i am deadly serious i don't have time to sit here and stroke your ego you need to shut up and listen the threat is real the gods are coming and they're bringing the blight with them let me tell you something about the blight it is evil it is implacable and above all it is predictable the blight has not changed in over a thousand years the gray wardens will defeat it as they always do and we will do so without you causing confusion with your deranged conspiracy theories i suggest you come along quietly adamant fortress 941 dragon the gray wardens attempted to raise an army of demons hardly the models of good judgment yourselves are you everyone knows warden commander clorell acted alone at adamant fortress acted alone you say imagine if everyone were to see the letter i discovered where you authorize her actions i wonder how that might complicate the narrative are you prepared to risk the security of the gray wardens for this deluded boy you may be surprised to learn that i care very little about the security of the gray wardens stay away from the blight and do not pester the gray wardens with any more of your nonsense he seems upset was it something i said that was close wasn't looking forward to being dragged off to a gray warden dungeon who should i be thanking for the assist magister dorian parvis at your service a mutual friend thought you might require some support may varus talani of the shadow dragons the very same i think we made an enemy of the first warden today well more you than me he just thinks i'm a dangerous idiot ha enemy i've ignored greater men no gray warden worth the name sits in a menrathus lounge sipping wine you need the wardens look for the ones out there fighting the blight in the meantime the shadow dragons will keep a close watch on the venatori good luck i'm sure we'll see each other again soon only the veil stood between us in a world of blighted darkness but on this side the gods could only tap a trickle they had to turn that trickle into a flood they sure could have used solas's dagger to rip open the fade but some foolish mortal had taken it so they'd have to create a dagger of their own drowning the world in blight it's just a matter of time a lot of dialogue i'm a little long but viaggi alla Nazionale del Custode I need to talk to Varric prova alleati nei custodi grigi dobbiamo tornare al faro va beh ragazzi questa parte la terminiamo qui ci vediamo se siamo al prossimo video vai a i i we